Siamo stati coinvolti in questo progetto della provincia di Bergamo, un progetto nella quale abbiamo creduto molto e perché crediamo che stare ai tavoli istituzionali, come famiglie, come genitori, possiamo portare un valore aggiunto. Il progetto Tutti Contribulli è un progetto nella quale abbiamo creduto immediatamente perché è sperimentale e perché coinvolge una fascia di età, quella dell'infanzia, che per noi è significativa. Grazie